Cazzo, questa è la reazione che voglio, questa è la reazione che voglio, questa è la reazione che voglio, sotto 4 a 2 a Milano, con i giocatori che ci mancavano, ci siamo riusciti a fare 4 pari, 4 pari con 2 gol bellissimi di Kenan Hildiz, vedete che se ci mettiamo la voglia le partite le riusciamo perlomeno a pareggiare, questa è la reazione che voglio. Ripeto, Danilo basta giocare al calcio, Danilo basta, ha procurato il rigore e da lì la partita è cambiata tutto quanto, si è preso un giallo, sul secondo gol colpa sua, sul 2 pari colpa sua perché la palla l'ha sbifata lui, sul 3 a 2 non è colpa sua però perlomeno è stato un altro, è stato Calulu, sul 4 a 2 di loro, sempre colpa di Danilo perché la palla l'ha di testa, anzi sul 2 pari la palla c'aveva sui piedi di Danilo e la palla la lascia loro, quindi Danilo basta giocare al calcio, Danilo basta alla Juventus, basta, però la formazione, la reazione della Juventus mi è piaciuta molto, mi è piaciuta, sotto di 1 a 0 si è andata a fare il gol dell'1 a 1, bellissimo gol, bellissimo gol tra McKennie e Vlaovic che segna, poi subito subito 2 a 1, bellissima lì l'azione di Conce Sau che è fondamentale per questa squadra, fondamentale, contentissimo per il gol di UEA, poi sul 2 a 1 per noi, Calulu purtroppo fa fallo, fa il rigore del 3 a 2, del 2 pari e dopo, no, anzi 2 pari, poi il rigore del 3 a 2, poi si va a riposo, si va 4 a 2 subito il gol di loro, la Juventus sembra sconfitta, ma i cambi questa volta funzionano, i cambi questa volta funzionano, l'Inter è andata nelle corde, la difesa dell'Inter ha traballato e siamo riusciti a fare 4 pari, sono contento di questa reazione, sono contento di questa reazione, però diciamo che Danilo non può più giocare a calcio. rigore procurato, si è preso un altro cartellino giallo e su altre due azioni c'era sempre lui di mezzo, quindi penso che Motta debba capire che Danilo non può più giocare perché è lento, è arrivato in ritardo sul rigore dell'1 a 0 su Turam, poi ha preso un giallo perché è arrivato in ritardo, ha fatto fallo, quindi basta. E non so perché Gatti ha fatto entrare così tardi a Gatti. Contento per Illiz che è entrato, ha fatto doppietta, vedete che se non gioca esterno ha fatto due gol da dentro l'area, da centrale. Vedete che se lì invece di stare esterno si sta un po' più accentrato, segna. È chiaro, è logico. McKennie mi è piaciuto, mi sono piaciuto tutto, mi è piaciuta proprio la squadra, questa volta perlomeno ci hanno messo impegno, la Juventus ha giocato benissimo questa volta, ha giocato bene, mi è piaciuta la Juventus. Questa qua è in più, diciamo che sotto 4 a 2 siamo riusciti a pareggiarla, quindi un punto guadagnato. Il Napoli va, ma perlomeno siamo riusciti a fermare l'Inter. Siamo riusciti a fermare l'Inter a casa loro. Loro tutti quanti contenti, cantavano, gioivano, e noi, 4 pari. Ragazzi, fatemi sapere qui sotto, mettete like, ma tanti like perché questa partita è stata strepitosa, 4 pari tra Inter e Juventus, io non lo ricordo, 8 gol in una partita. Iscrivetevi al canale, fino alla fine, forza Juventus, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi, ciao, 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 ciao.